Ciao a tutti e a tutte amici ed amiche di Swiver, io sono Luca Sacco e vi do il benvenuto in un nuovo episodio di storia di ciclismo. In questa puntata lasceremo da parte il ciclino su strada e ci sposteremo in pista per parlare nello specifico della disciplina regina dei velodromi, ovvero la velocità. La nostra storia racconta di un duello, d'altronde i duelli sono il sale di quella specialità in cui moderni cavalieri in sella alle loro biciclette si sfidano a colpi di progressioni, scatti e surplus, ovviamente. Un duello che vede due contendenti molto diversi tra loro, ma due contendenti veramente agguerriti. Il primo è un giapponese, è nato nel 1955, si chiama Koichi Nakano, ma in patria lo chiamano l'Aquila di Kyushu. Koichi è cresciuto in quel microcosmo affascinante che è il Keirin giapponese, un mondo a sé, totalmente slegato dal resto del ciclismo. Nel 1976 ha fatto il suo esordio e ha vinto le prime 18 gare a cui ha partecipato. In breve tempo è diventato un'autentica star di quella disciplina, nel 1980 arriverà a guadagnare addirittura 100 milioni di Yen in una sola stagione. Voglioso di superare i suoi limiti, però Koichi decide di provare a misurarsi con i più forti sprinter al mondo nei campionati mondiali di velocità individuali. Si presenta per la prima volta la rassegna e ridata nel 1976 e non va bene. Ci riprova nel 1977 e diventa campione del mondo. È l'inizio di una striscia infinita di successi. È favorito, bisogna anche dirlo, dal fatto che i grandi velocisti dell'URUS e i grandi velocisti della DDR, della Germania dell'Est, tra cui l'immenso Lutz Eslisch, sono confinati tra i direttanti. Vince il titolo mondiale anche nel 1978, lo vince anche nel 1979, si ripete nel 1980 e perfino nel 1981. In questa occasione che, per la prima volta nella sua carriera, affronta colui che sarà ricordato come la sua Nemesi per eccellenza, ovvero l'altro protagonista della nostra storia. Un corridore canadese, uno sprinter nato ai piedi delle cascate del Niagara e il cui scatto è impetuoso come l'acqua che scende da quella meraviglia naturale. È nato il 9 agosto del 1956 e si chiama Gordon Singleton. Nella stagione 1980 Gordon Singleton era diventato il primo uomo nella storia a detenere contemporaneamente il record del mondo sui 200 metri, sui 500 metri e sui 1000 metri. Un'impresa che mai nessun'altro riuscirà a replicare. In quella stessa stagione puntava all'oro olimpico e voleva partecipare ai giochi di Mosca, ma il Canada decide di boicottarli e dunque non può coronare il suo sogno. Decide dunque di porsi nuovi obiettivi e nel 1981 passa professionista. La rassegna ridata di quella stagione è la sua prima nella massima categoria. Nonostante ciò arriva in finale nel torneo della velocità, un traguardo che nemmeno qui Chinakano era riuscito ad agguantare alla sua prima partecipazione. Perde per mano nel fuoriclasse giapponese ma decide che vuole prenderci la rivincita e passa tutto l'inverno del 1981 e tutta la primavera e l'estate del 1982 ad allenarsi per il mondiale che si terrà all'Eister su finire dell'agosto del 1982. Prima del torneo della velocità però c'è il Keirin, l'occasione di vincere un'altra maglia ridata. Singleton vi partecipa e arriva in finale. Quando Derny lascia i corridori all'ultimo giro di quella gara, Gordon si trova in terza posizione. In testa c'è l'Australiano naturalizzato britannico Danny Clark, il campione del mondo in carica. In seconda posizione invece proprio davanti a Gordon c'è un tedesco, Joseph Christen. Singleton prova a superare Christen all'esterno ma questi cerca di respingerlo con una gomitata. Gordon però non molla e insiste nella sua azione, allora Christen gli rifila un'altra gomitata. Singleton capisce che deve rispondere alla fisicità del collega, lo allontana con una manà. In questo modo riesce a prendere la ruota di Clark ma al traguardo manca pochissimo. Gli atleti sono all'ultima curva, con un gesto tecnico che ha dell'incredibile, dando dimostrazione ad avere una punta di velocità più unica che rara. Singleton passa all'esterno che supera a tripla velocità nonostante il pochissimo spazio a disposizione. Il Pistar australiano fa un numero strepitoso, lo brucia letteralmente, la sua accelerazione è devastante e sembra che possa addirittura spaccare la catena. Singleton conquista la sua prima maglia ridata, ma non è solo la prima maglia ridata di Gordon Singleton, è anche il primo titolo mondiale nel ciclismo, nella storia del Canada. Con quel trionfo Gordon Singleton diventa un eroe nazionale, il morale ovviamente alle stelle, ma lui non basta. Vuole la seconda maglia ridata, vuole coronare quel mondiale da sogno, vuole battere qui in Sinaka. La finale della velocità si svolge il 29 agosto, in un velodromo gremito, c'è un settore che è pieno, zeppo, di tifosi canadesi, c'è la moglie di Gordon, ci sono gli amici, ci sono i familiari, fanno un baccano incredibile, per Singleton non è come giocare in casa. In gara 1 i due sembrano equivalersi, l'ultima curva esce leggermente in testa a Nakano, ma Singleton dà l'idea di potersi produrre nuovamente in quell'accelerazione bruciante con cui ha vinto il titolo di ridata del Kei. Singleton sta uscendo all'interno, ma Nakano gira la testa dall'altra parte, guarda all'esterno, o fa finta di star guardando all'esterno, i due poi si toccano e franano a un B2 a terra. La giuria inizialmente attribuisce la colpa della caduta a Nakano e dalla vittoria Gordon Singleton, dopodiché però dicono di rivaltare la decisione, non riuscendo a capire bene quali siano state le dinamiche, e dunque stabiliscono che la prima manche si debba ricorrere. La ripetizione della prima manche è un monologo di Gordon Singleton, il canadese scatta poco dopo la campanella all'ultimo giro e non lascia margine di replica al rivale, lo batte nettamente, vince praticamente per distacco. Siamo 1-0 Gordon Singleton, il pubblico è in delirio, al canadese manca un successo per laurearsi campione del mondo anche nella velocità individuale. Deve però fare i conti col fatto che Nakano non è solo particolarmente veloce, è anche molto astuto, molto scaltro e fino a un po' scorretto. In gara 2 Singleton prova a ripetere il gesto tecnico di prima, questa volta però Nakano è lesto e gli prende la ruota, l'ultima curva il giapponese esce all'esterno, i due sono praticamente spalla la spalla. Singleton sta coprendo col gomito largo arrivato, a un certo punto il canadese di colpo frana giù dalla pista, al contrario Nakano questa volta resta in piedi e taglia il traguardo. Il pubblico è arrabbiatissimo, sommerge di bullpistar giapponese, Singleton si alza di scatto, è furioso ma poco dopo si distende a terra perché si è fatto male. I giudici guardano e riguardano e riguardano la dinamica dell'incidente ma non riescono a capire, sembra che mentre Singleton ha il gomito aperto, Quichy con il suo di gomito gli dia un colpetto e lo butti giù, ma da quelle immagini non si riesce a capire bene realmente cosa sia successo, non c'è il margine per squalificare il giapponese. Nakano vince dunque gara 2, ci sarebbe la bella, la terza manche, ma Singleton si è rotto la clavicola e non può ripartire, dunque deve accontentarsi dell'argento e Nakano è nuovamente campione del mondo. Quell'infortunio metterà fine alla carriera di Gordon Singleton, al contrario Nakano continuerà a correre ancora a lungo, riuscirà a battere il record di 7 successi nella rassegna ridata alla velocità individuale detenuta dal grande Jeff Sherens, il belga degli anni 30, e dal nostro Antonio Maspes, poi sarà addirittura in grado di arrivare a quota 10 successi consecutivi, un traguardo che mai nessun altro riuscirà ad eguagliare. Il nostro racconto finisce qua con quel vero di malinconia che questa storia porta con sé. Se questo video vi è piaciuto vi consiglio di mettere un mi piace, se non l'avete già fatto vi invito anche ad iscrivervi al canale, da parte mia per oggi è davvero tutto, ma vi do appuntamento settimana prossima con un'altra storia di ciclismo. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!